Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro magazine interamente dedicato alla Pala Tamburello. Vado subito a presentare chi è come in studio partendo da Paolo Pometto, responsabile della comunicazione, ma comunque sia con tantissimi altri ruoli all'interno della Federazione Italiana Pala Tamburello. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao Cristel, buongiorno a tutti. Oggi puntata speciale dedicata alla fase finale della Coppa Italia Open che si è disputata a segno in provincia di Trento dal 5 al 13 agosto. Un evento perfettamente riuscito grazie all'organizzazione della società ospitante, l'Unione Sportiva Segno, con il contributo del Comune di Predaia, del Comitato Provinciale FIPT di Trento e con il patrocinio della provincia di Trento e della Regione Trentino. Oggi abbiamo in studio due protagonisti che con le rispettive squadre hanno conquistato la Coppa nella massima serie, quindi Walter De Rada, giocatore capitano del Virtus Guidizzolo, e Giulia Piatti, giocatrice atleta del Ceresara. Allora, ben ritrovati, ben ritrovati Walter. Grazie mille, buongiorno a tutti. E ben ritrovata Giulia. Buongiorno. Allora, fra pochissimo andremo a vedere anche quanto è successo, ci faremo aiutare dalle grafiche. Prima però, se sei d'accordo Paolo, se me lo consenti, vorrei andare subito da Walter, perché comunque se ne stiamo parlando anche a telecamere spente e ci teniamo ovviamente a ricordarlo Walter. Volevo iniziare con un saluto, un carissimo amico, un dottore che lavora con me, che purtroppo in questo momento gli stiamo dando l'ultimo saluto. Ciao Emilio. Perfetto, era doveroso insomma avere anche questo momento all'interno del nostro appuntamento, era giusto così e ovviamente ci accodiamo al dispiacere in questo momento anche del nostro Walter, ma non solo. Concludiamo questa parentesi, ne apriamo un'altra, in questo caso l'apriamo andando a vedere, se siete d'accordo ci facciamo aiutare anche dalla nostra grafica, i risultati quindi per quanto è successo nella maschile la Coppa Italia Open, questa Coppa Italia Open, le finali per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, la Serie C, le vediamo insieme Paolo così le commentiamo. Sì, allora in Serie A vittoria del Virtus Guidizzolo che sconfigge 6-3-6-2 il Pasino Castellaro, primo successo in Coppa per il Virtus Guidizzolo. In Serie B i padroni del Casa del Segno sfruttano il fattore casalingo con un doppio 6-3 e quindi si aggiudicano la coccarda nei confronti del Valgatara. In Serie C il Fumane batte il Madone per 6-3-6-2 e quindi succede al salvi nell'albo d'oro della Coppa Italia di Serie C che è la seconda edizione. Perfetto, allora quindi questi risultati, fra pochissimo andremo a vedere anche le immagini di riferimento ovviamente alle sfide, visto che stiamo parlando del successo del Virtus Guidizzolo non possiamo non partire da Walter, ci scuserà la nostra Giulia, ma fra pochissimo andremo anche da lei. Walter, allora vengo da te per parlare di questo grande successo, un successo importante anche perché arriva dopo 26 anni, adesso ci racconti un po' tu come è andata, però immaginiamo ovviamente la grande soddisfazione dopo 5 tentativi ovviamente prima di poi arrivare a vincere. Esattamente, è un successo che ho atteso ben 26 anni, 26 anni di carriera, 5 finali perse, mi è andata bene la sesta, preparata in una maniera impeccabile sia dalla società sia dall'allenatore, siamo arrivati in quel disegno convinti di poter fare qualcosa di buono, convinti di avere una squadra all'altezza del Castellaro, anche se le tre partite precedenti sono andate a favore loro, una partita precampionato, la partita di andata del campionato dove hanno vinto praticamente pulito, la partita di ritorno dove ci siamo avvicinati ulteriormente a loro e poi finalmente questa partita attesa, desiderata e vinta su un campo con una cornice di pubblico meraviglioso, con un'organizzazione meravigliosa e senza lasciare nulla al caso, proprio abbiamo buttato tutto in questa partita consapevoli che probabilmente potrebbe essere l'unico titolo che quest'anno riusciamo a portare a casa con una squadra che sulla carta a qualcosa poteva ambire e infatti qualcosa è arrivato. Tra l'altro un successo importante non solamente tuo a livello personale, anche se pensiamo alla società stessa perché è il primo trionfo in Coppa Italia. È il primo trionfo della società, della Virtus Guirizzolo, grandi sacrifici da parte di tutti, grande seguito, ci sono stati a fianco in tutta la Comppa Italia, ci sono stati a fianco durante la preparazione, durante le trasferte per preparare questa partita proprio in logo, quindi proprio direttamente a segno, non hanno lasciato nulla al caso e questo è stato premiato, questo trofeo meraviglioso, atteso da sempre per loro, quindi felicità per tutti, giocatori, società, mister e i tifosi stessi che ci hanno seguito. Le immagini, no? Anche le stiamo vedendo ovviamente, della premiazione, tutta la felicità, e questa è immaginabile. La vittoria è avvenuta invece in semifinale contro la Cavrianese, se vi aveva già dato qualche indicazione importante in vista di questa finale? La vittoria con la Cavrianese ci ha dato sì, sicuramente una bella spinta e ce l'aspettavamo un attimino più combattuta come partita, in realtà anche se loro avevano una difficoltà nel loro giocatore, in un loro giocatore e quindi è risultato un attimino più tranquilla la nostra vittoria, ma però come ripeto siamo arrivati qui come gruppo, anche se qualcosa era successo nel nostro gruppo che non andava nella perfezione, abbiamo fatto gruppo, abbiamo fatto l'unione e la voglia proprio di andare a prendere questo trofeo, di andare a giocarcela e provare tutto per tutto. Sì, sono state due partite pressoché simili, sia con la Cavriana che col Castellaro, ma penso che non lo so cosa ci fosse nella finale perfetta. È sempre una partita a parte, quando si parla di finali sono sempre poi delle partite a parte e poi contro la Castellaro voi avevate perso invece in campionato, non nello scontro diretto, quindi magari questa può essere stata una chiave per poi andare a vincere in una gara così determinante come la finale, magari anche quella voglia di rivalsa da parte vostra, una rivincita. Sicuramente la voglia di rivalsa, ma abbiamo perso in campionato, come ho detto prima, all'andata, abbiamo perso al ritorno buttando un pochetto la partita perché il primo set ce l'avevamo nelle mani, 5-3 per noi, ma il Castellaro è una squadra fortissima, con grande esperienza, e sono venuti a prenderci, ci hanno preso il set 6-5 sulla palla secca del 40 pari, che ho sbagliato io, e il secondo set poi siamo caduti, siamo cascati. La società ci ha rincuorato in tutti i modi, ripetendoci a profusione che abbiamo perso una battaglia e non la guerra e noi abbiamo seguito per filo e per segno queste parole e in questa chance non ce la siamo fatti scappare. Questa è la gioia che stiamo vedendo, incredula, per qualcuno era la prima volta, per tanti era la prima volta, per me, come ripeto, era la prima volta dopo 26 anni di Serie A, dopo 5 finali perse, quindi una gioia che forse non riuscirò più a ripetere perché sono arrivato al capolinea, quindi gioia vera, gioia immensa e finalmente ho completato il palmarese, sono contentissimo. Facciamo un piccolo flash anche sul campionato, perché poi nell'ultimo weekend di agosto riprenderai il campionato, mancano le ultime 5 giornate, anche per capire come siete messi ovviamente a livello di classifica, che cosa vi manca e che cosa si prova a fare. Walter? Si prova fino alla fine, si prova a star lì, col fiato sul coglio di questo Castellaro che abbiamo visto che qualcosa possiamo fare anche noi, sicuramente 5 punti di vantaggio sono tanti, considerando il valore del Castellaro, considerando che ci siamo già bruciati quello che è lo sconto diretto, però 5 partite vuol dire 15 punti, speriamo. Allora andiamo avanti, altra grafica, perché adesso ci dobbiamo dedicare invece al mondo femminile, quindi con la Coppa Italia Open femminile, Paolo al volo con te li commentiamo e poi ci spostiamo ovviamente da Giulia. Perfetto, il Ceresara in Serie A batte la Tigliolese in 2-7, 6-5 e 6-4, prima Coppa Italia anche per il Ceresara, in Serie B l'Aldeno vince al Tybrek, un Tybrek lunghissimo come possiamo vedere, 13-11, partita dalle mille emozioni e quindi un Aldeno, squadra giovanile che ha sconfitto squadre più attrezzate e quindi ha meritato la Coppa di Serie B. E allora diamo spazio alla nostra Giulia Patti, ovviamente, Piatti scusami per quanto riguarda la formazione poi vincitrice, come abbiamo visto prima in grafica. Giulia, la stessa domanda che ho fatto a Walter la ripropongo anche a te perché c'è una cosa che in qualche modo vi accomuna, ovvero il fatto di aver conquistato questo primo trionfo in Coppa Italia. Esatto, è il mio primo trionfo in Coppa Italia, in realtà quest'anno è il primo trionfo in molte cose, avendo vinto anche la prima volta la Coppa Europa, è un po' l'anno delle prime volte, dei primi posti. Sicuramente è un'emozione enorme che corona comunque un'annata molto positiva dove appunto c'è stato un ottimo gruppo, dove si è formato un ottimo gruppo con una forte intesa e la possibilità anche di appunto raggiungere obiettivi che si erano appunto fissati a inizio campionato e inizio stagione. E questa appunto è stata, parlando effettivamente la stagione, è stata una grande stagione con la vittoria della Coppa Italia, come facevi riferimento prima tu alla Coppa Europa, quindi un po' la stagione delle prime volte, è una stagione che sta prendendo forma e sta arrivando anche se vogliamo in qualche modo all'epilogo, l'abbiamo detto, in modo insomma incredibile. Esatto, per quanto riguarda la Serie A femminile, l'ultima domenica di agosto termina appunto la regular season con l'ultima partita di campionato e successivamente ci saranno i play-off dove appunto non sappiamo ancora chi andremo a sfidare perché siamo sicuri del nostro secondo posto, ma ancora sono aperte le posizioni del terzo e del quarto, quindi o segno o faedo, quindi è ancora molto indecisa la nostra semifinale di scudette. E proprio per quanto riguarda, visto che stiamo vedendo ovviamente le immagini, la partita contro la Tigliolese, come l'ho chiesto a Walter, voglio sapere anche da te al volo qualche dettaglio sulla partita, le chiavi che poi vi hanno permesso di arrivare alla vittoria. Anche perché la Tigliolese era già detentrice di questo titolo, comunque c'era già un percorso importante a livello di Coppa Italia. Esatto, la Tigliolese era detentrice del titolo e in più in campionato abbiamo perso entrambe le sfide. Questa rivolta che vi accomuna, un altro punto in comune. Esatto, sicuramente i punti più eclatanti del match sono stati la nostra capacità di rimanere unite, nonostante la rimonta che appunto ha compiuto la Tigliolese, perché eravamo nel primo set avanti 4-1, rimontate 5-4 e 5-4-40 pari, è stato proprio il gruppo a riuscire a concludere con i 40 pari e riuscire comunque a prendere il primo set. E stessa cosa nel secondo set, con appunto un vantaggio di 5-1, riuscire a rimanere lucide quando l'avversario ti inizia a raggiungere, è molto difficile, ma siamo riusciti comunque a concludere al meglio. Il counter lo vediamo, abbiamo veramente pochissimo tempo, abbiamo anche un altro servizio per fare il resoconto degli altri risultati. Per quanto riguarda le altre serie, una domanda al volo, visto che è stata un po' la giornata dei punti che vi accomunano, anche a livello di ruolo, perché siete ricompriti entrambi il ruolo da terzino, volevo sapere da voi effettivamente quali sono le caratteristiche che servono per svolgere questo ruolo al meglio, ma veramente 5 secondi e 5 secondi partendo da Giulia. Allora io ho sempre detto che il ruolo del terzino è un po' il ruolo misto tra portiere e rigorista, ti arriva una palla magari ogni 20 minuti, anche durante la partita, no 20 minuti forse un po' troppo, però comunque deve rimanere lucido durante tutta la partita, anche se tu comunque influenzi in modo relativo, cioè devi essere lucido in quel momento giusto. Walter mi sembra d'accordo, ma un secondo mi ha fatto dire. Non fa una piega a quello che ha detto Giulia, la difficoltà è quella, magari stare degli attimi importanti senza toccare una palla, ma avere la concentrazione e la lucidità quando arriva l'obbligo di far punto, perché i tuoi compagni si stanno prodigando, stanno lavorando per farti far punto e tu non puoi sbagliarla, perché se ti giri e vedi 4 con la testa bassa, sono stato io, quindi quello è dopo riflesso, posizione e tante altre cose che non è giusto svelare. Giusto, giusto, ci sono sempre i segreti del mestiere, ora gli altri risultati nel prossimo servizio. Ad aprire il programma delle finali di Coppa Italia sul campo di segno in provincia di Trento è stata quella di Serie C maschile che vedeva opposte la Bergamasca Madone, vincitrice in semifinale sul Cinaglio, e la Veronese Fumane che aveva invece piegato la resistenza della Trentina Faedo. È stato un dominio della formazione veneta che si è imposta per 6-3-6-2 sugli Orobici, dimostrandosi più completa e superiore in ogni reparto, capitalizzando al meglio ogni occasione creatasi. La Coppa Italia di Serie C rimane così nel Veronese, con il Fumane, che succede nell'Albudoro al Salvi, vincitore della prima edizione di categoria un anno fa a Noarna. La Coppa Italia di Serie B sorride invece alle squadre trentine, nel maschile trionfo del segno in due set, con un doppio 6-3 sul Valgatara. L'avvio di entrambi i parziali era l'insegna dell'equilibrio fino a altre pari. Poi i padroni di casa non hanno più lasciato spazio agli avversari. Con un'ottima prestazione, caratterizzata da tecnica e sagaccia sportiva. Per i ragazzi di Alessandro Tretter era l'enorme la soddisfazione nel conquistare un trofeo sul loro campo di gioco e sconfiggere una delle principali antagoniste per la conquista del primo posto in campionato. Al contrario, edizione deludente per i team Bergamaschi, Dossena e Castelli Calepio, le cui aspettative si sono infranti in semifinale. Nel femminile è successo l'Aldeno, che si riconferma dopo l'espload in semifinale, contro il quotato Castellarfero. La sorpresa del torneo, avendola meglio nell'ultimo atto anche contro il Ciserano. La gara è stata molto combattuta fin dal primo set, con l'Aldeno che si aggiudicava il 40 pari decisivo, sfruttando il rinvio difettoso della retroguardia avversaria. Nel secondo set si assisteva al riscatto del Ciserano, che lasciava un solo gioco alle rivali. Al tie-break era un susseguirsi di emozioni, ma alla fine era la compagine trentina ad avere la meglio per 13-11, potendo così alzare il trofeo che segue, per la maggior parte delle atleti della squadra, il titolo italiano conquistato a fine luglio nella categoria giovanile allieve. E così abbiamo anche un quadro generale di quanto è successo nelle altre categorie, però ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati in conclusione. Grazie Paolo Pometto. Grazie mille Cristel. Ricordo che il prossimo giovedì la puntata sarà dedicata al mondo della pala tamburello giovanile, in particolare alla Coppa dell'amicizia, che si disputerà nel fine settimana a San Pietro Incariano, in provincia di Verona, ovvero la sfida tra le nazionali giovanili d'Italia e Francia. Grazie mille Giulia Piatti. Grazie a voi. Grazie a Walter De Rada. Grazie a tutti. Grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo con il prossimo appuntamento dedicato alla magazine alla palata a Murello. Ciao.